Tre detective speciali alle prese con un assassino, tra storie di stalking e vecchi segreti. C'è questo e molto altro nel giallo ultimo tango all'ortica, quarta avventura della fioraia del giambellino libera, della sua eccentrica madre Iole e della rigida nipote Vittoria, personaggi nati dalla penna di Rosa Teruzzi, caporedattore della trasmissione Mediaset Quarto Grado. Il libro è stato presentato lunedì sera nel quartiere Casalini di Policoro, secondo appuntamento della rassegna Libri sotto le stelle, organizzata dal presidio del libro Magna Grecia. Nel corso della serata l'autrice ha parlato delle sue storie, in cui le protagoniste sono tre donne diversissime ma complementari, pronte a risolvere casi dimenticati dagli inquirenti grazie ad intuito, passione e sensibilità. Il tutto in una Milano diversa, quella dei quartieri popolari, lontani dal traffico e ricchi di scorci inediti come lo stesso casello ferroviario dove vivono le protagoniste. Nel quarto romanzo della serie, Ultimo tango all'ortica, Rosa Teruzzi abbandona i cold case per affrontare le indagini su un delitto, in diretta concorrenza con la polizia. Il perché lo abbiamo chiesto all'autrice, che ai nostri microfoni ha parlato dei suoi libri. Io in realtà amo i cold case, mi piace raccontare i segreti. In questo caso mi sembrava interessante un tema che è quello dello stalking, perché la persona che viene uccisa è lo stalker di una donna, dei Katie, una ballerina di tango. Mi piaceva l'idea di raccontare questo, diciamo quello che c'è dietro a uno stalker, cioè il fatto che gli stalker spesso vanno a caccia di donne fragili che cercano amore. Per lavoro conosco molti detective veri, nel senso che faccio la caporedatrice di una trasmissione di cronaca nera, per cui mi interfaccio spesso con carabinieri, poliziotti, con magistrati e mi piace invece l'idea che possano essere delle direttanti a indagare e quindi non hanno a disposizione gli strumenti scientifici che spesso sono poco romantici nelle indagini. Riescono però a risolvere i casi prima della polizia grazie all'intuito e grazie anche alla passione? Sì, è un po' come lavoravamo quando io tanti anni fa facevo il cronista di nera in un giornale che si chiamava La Notte, un giornale di Milano, che lavoravamo andando in giro a sentire le persone, intervistando i testimoni. Ecco, questo è quello che mi piace raccontare nelle mie storie, che sono storie gialle ma anche ironiche. Prima volta in Basilicata? L'anno scorso sono stata invitata al Women's Fiction Festival, ma non è la prima volta che sono in Basilicata perché ho vissuto a lungo a Matera con mio padre quando lavorava qui in trasferta e prima che la città diventasse la città meravigliosa che è giallo era in spirito ma non così. La rassegna Libri sotto le stelle prosegue mercoledì 7 agosto con un'altra signora del giallo italiano, la scrittrice barese Gabriella Genisi che presenterà la sua ultima indagine, Pizzica Amara.